La Coppa Italia l'anno scorso ha avuto un valore importante perché è stata una vittoria dopo tantissimi anni dove il Napoli non festeggiava un trofeo e quindi sappiamo tutti quello che abbiamo passato e come abbiamo gioito quella sera. Più che gioia al secondo posto spero solo che nel momento in cui dovesse arrivare per qualcuno non possa sembrare un flop nel senso che non si è vinto e si è arrivati secondi perché comunque come dicevi tu può essere un risultato eccezionale calcolando la forza anche delle squadre che stanno oggi in serie e che ci sono dietro. Quindi spero che per tutti possa essere un momento di gioia come dicevi tu che hai ricordato il mio appiazzamento anche nell'era del nostro presidente nuovo perché comunque il Napoli ha avuto degli anni un po' cattivi quindi spero che possa essere una gioia per tutti e che qualcuno non... certo comunque arrivare anche ai secondi è importantissimo consentirebbe comunque di fare la Champions l'anno prossimo in maniera diretta non è poco.